Pagano tutta a casa perché non ci stava a volere. Chi c'è? 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 Chi c' Sfidiamo dritto, dritto e poi facciamo rielemento in una buca. Poi ammigiano verso l'ultimo. L'accortiamo, qua in questo caso, in questo posto, questa genizia della vista spara solo. La vista con il servizio. In testa, signori, voi qua non potete stare. In testa, insomma il velo di testa. Ma non ho messo, ho capito, non ho messo il puttere in testa. Sfidiamo. 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 Non voglio contare perché non voglio fare. Sfidiamo. 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 Sfidiamo, vediamo. Height. Grazie a tutti.